Adesso conterò tutte le sequenze come se stessimo ballando ma senza musica, in modo tale da avere un quadro chiaro di cosa balleremo. Partiamo con la A con 32, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, peso sulla gamba sinistra, se non ricominciate la A con la gamba destra. Attenzione, a destra, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 7, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 7, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 7, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5 7 e 8, e 1, 2, 3, 4, 5, 7, 7 e 8, e 1, 2, 3, 4, 5, 7, 7, 8, 1, go destra, 3, 4, 5, 6, 7, 8, Appoggiamo l'armamento a destra, 8 timp di morti di up, 7, 8 inverno con l'arco, 1, 2, 3, 4, 5, 7, 7, 8, e 4, 5, 7, 7, 8, 5, 7, 8, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 1, 2, 3, 5, 7, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 14, 15, 15, 15, 15, 17, 18, 10, 14, 15, 15, 16, 17, 18, 20, 18, 27, 17, 18, 19, 20, 20, 21, 22, 22, 22, 22, 22, 23, 24, 25, 23, 24, 25, 27, 27, 28, 1 e 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8, 6, 7, 8 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, destra, 3, 4, 5, 6, 7, 8, avanzo 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, e 2, 3, 4, 5, 7, 8, 1, e 2, 3, 4, 5, 7, 7, 8, ed 4 è 5 708 1, 1 2, 3 e 4 5, 3 , 7 & 8 1 e 2 3 e 4 5, 7 minu no 3, 4 5, 6 7 & 8 1, 3 4 5, 7, 7 8 2 e 3 4 5, 7 7 & 8 2 e 1 3, 4 5, 7 7 & 8 Sinistra 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, e chiudo spostando la lama sinistra, lateralmente. questo è quello che andremo a ballare ovviamente è veloce ma bellissimo grazie per l'attenzione e adesso la vediamo